Buongiorno ad Andrea Pranovi, a tutte le amiche e tutti gli amici di Radio Roma Capitale TV, martedì 3 luglio del 2018, come sempre per dare un'occhiata ad alcuni dei titoli che troviamo sui quotidiani questa mattina, andiamo sulla prima pagina della cronaca di Roma della Repubblica, appello della sindaca, ma finora a vuoto migliaia di segnalazioni. Invito ai cittadini sceriffi allo 060606, tante denunce dalle buca agli alberi senza esito. In taglio medio d'allarme, paura a San Pietro, albero centra auto, ferita una donna, stavo guidando. E poi l'emergenza, comodi di spazzatura dopo il lungo ponte e stanno per scadere i contratti con i TMB, TMB lo ricordiamo acronimo che sta per trattamento meccanico biologico. Andiamo sulla prima romana invece del Corriere della Sera, carta d'identità non prenotabile a luglio ed agosto, sito del Ministero al debutto, ma l'anagrafe non dà appuntamenti, impossibile richiedere dai municipi primo, terzo, sesto, ottavo, nono ed undicesimo e negli altri ci sono i puntini di sospensione. Su questo argomento intervista all'assessora Marzano, sconti per documenti online e rinforzi. In taglio medio San Pietro, albero crolla su un'auto, una donna in codice rosso in via dei Fornaci ricoverata al santo spirito. Queste sono alcune delle notizie che troviamo sui quotidiani questa mattina e che approfondiremo nel corso del nostro appuntamento radiofonico con Buongiorno Roma. Vi aspetto sui 93, modulazione di frequenza di Radio Roma Capitale fino ad ore 10.